Una favola senza fine, quella della Sandra Abate, un sogno che non ha conosciuto ostacoli, promozioni su promozioni con la conquista della Serie A in poche stagioni. Un progetto vincente che regala la massima serie del futsal all'Irpinia, merito a Massimo Abate di averci creduto, merita ai ragazzi in campo, che con l'ennesima stagione straordinaria regalano un altro successo ad una terra che quest'anno ha potuto brindare diverse volte. Tra i grandi protagonisti della promozione, Andri Fantasele. Eh sì, quello era il nostro obiettivo, no? L'obiettivo predefinito della società era vincere la Coppa e andare in Serie A. Abbiamo dato il nostro massimo durante la regola SISU, non siamo riusciti, però abbiamo avuto la seconda chance e abbiamo approfittato fino alla fine. E di che ringraziamenti per lui? A Rogério. Eh certamente, dobbiamo ringraziare anche i tifosi, sono venuti qua, hanno fatto una festa. L'abbiamo fatto per meritare questo. Non lo so, ora vediamo, speriamo di fare la Serie A, speriamo di farla bene e portare la Santa Batte ancora più.